Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno a prima mattina, martedì 5 dicembre, la nostra rassegna stampa per leggere insieme le principali notizie pubblicate sui quotidiani in edicola, ma anche dal web gli ultimi aggiornamenti sui fatti dall'Italia e dal mondo. Buongiorno anche da Maurizio Valeriani in regia, grazie al quale andiamo subito ad aggiornarci su quanto sta accadendo nelle ultime ore nella nostra attualità. Ovviamente siamo qui sulla home page di Sky TG24 per gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Medio Oriente, dal fronte sempre più caldo del Medio Oriente, il conflitto tra Israele e Hamas, che si pare si stia estendendo dopo la tregua terminata, il cesto del fuoco momentaneo, la tregua che ha portato anche ad uno scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. Adesso le armi tornano a far sentire potentemente la loro voce, il titolo, i tank di Israele avanzano su Khan Yunis, vale a dire nel sud della striscia di Gaza, raid e blindati anche a Jenin in Cisgiordania, Israele estende la sua offensiva contro Hamas nel sud, leggiamo ancora, nel sud di Gaza, bombardamenti su tutta la striscia, nella notte raid a Jabalia e mezzi in avanzamento su Khan Yunis, quindi una fase molto intensa per la ripresa dei combattimenti da parte di Israele. Tra gli altri titoli segnaliamo, e tra un po' andiamo anche a sviluppare l'argomento, a Padova oggi previsti i funerali di Giulia Cecchettin, lutto cittadino in tutto il Veneto, parliamo ovviamente del femminicidio di Giulia, la ragazza uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta che si trova in carcere. A proposito, questa è la notizia d'apertura che guadagna lo spazio principale sul messaggero, sulla prima pagina del messaggero, Giulia, l'addio in diretta TV, in 15 mila oggi attesi a Padova per i funerali, Turetta fuori dall'isolamento potrà vederli in carcere appunto dalla TV. Duro messaggio del Presidente della Repubblica, Mattarella, troppi femminicidi, c'è bisogno di un cambiamento radicale. A centro pagina la foto è dedicata alle donne, alle ragazze e bambine vittime di stupri il 7 ottobre scorso durante il raid e l'attacco di Hamas in Israele. L'attrice israeliana Moranatias accusa il silenzio sugli stupri del 7 ottobre, mentre accanto la notizia di giudiziaria, ieri la sentenza che ha portato alla condanna a 17 anni di carcere del gioielliere del Cuneese di Grinzanecavur, Mario Roggero, che uccise due ladri in fuga, due ladri che avevano assaltato la sua attività. Dopo la sentenza l'invettiva contro i giudici, viva la criminalità, ha dichiarato Roggero, la Lega si è schierata con lui. Lasciamo per il momento da parte le notizie nazionali, andiamo subito ad occuparci invece dei fatti e delle notizie di casa nostra. Restiamo sul messaggero con la prima pagina dell'edizione abruzzese. La cronaca schianto in autostrada, morto un imprenditore è accaduto sulla A25 a Pescara, la vittima è Stefano Di Francesco, di 34 anni, di Alanno. Ha fatto tutto da solo, nel senso che l'incidente non ha coinvolto altre autovetture, l'urto lo ha sbalzato fuori dall'abitacolo, come dicevamo l'incidente ieri mattina sulla A25 Roma-Pescara, tra lo svincolo Pescara-Villanova e l'allacciamento con la A14. Di spalla lo sciopero dei medici, oggi in tutta Italia, prevista l'astensione dal lavoro dei camici bianchi, scioperano i medici, l'adesione sarà alta, AS e ospedali annunciano e avvisano gli utenti possibili disservizi. Il segretario regionale abruzzese della Nao Assomed Grimaldi dice uno sciopero in difesa dei pazienti. Grimaldi che abbiamo intervistato la scorsa settimana in occasione di un convegno a Teramo della Nao Assomed, dal quale aveva preso parte anche il segretario nazionale di Silverio. Avevamo proprio sentito le ragioni dei medici che scioperano oggi. Altri titoli a centropagina, sempre cronaca, coltello alla gola tenta di uccidere il cliente nel bar accaduto nell'Aquilano a Prata d'Ansidonia, irruzioni al grido ammazzo qualcuno, una donna disarmata da un avventore è arrestata. A centropagina nella foto di Pescara, la classifica del benessere tra le province abruzzesi, Pescara batte le altre città per la qualità della vita, anche se ricordiamo che non si parla di singole città, ma di province nella classifica pubblicata ieri dal sole 24 ore. Qualche altro titolo, sempre prima del messaggero a Pescara, le feste di fine anno, Smiley in piazza il 31 dicembre, mentre i Pum salutano il nuovo anno con un gran concerto previsto il 1 gennaio sull'area di Risulta. Tra poco vedremo insieme anche il servizio sull'annuncio da parte del sindaco Masci di questi appuntamenti. Poi le ferrovie, Frecciarossa, Pescara e Milano più vicine di 30 minuti, nuovi orari per i collegamenti ferroviari tra il nord e il sud dell'Italia. Ed infine il calcio di San Ricci, il Pescara cerca continuità nella trasferta di Pontedera, Zeman riproporrà lo stesso pacchetto difensivo visto all'opera a Chiavari, dove è giunta la vittoria per il Pescara. Ci spostiamo adesso dal messaggero sul quale torneremo tra poco al centro, le prime pagine delle quattro edizioni provinciali del centro. Partiamo da quella di Teramo, in apertura il caso degli sfollati di Colle Aterrato di via Adamoli, rientro nelle case Ater a Pezzi, alloggi danneggiati dopo i lavori di riparazione post-sisma, proteste degli inquilini del primo palazzo ricostruito, quindi una vicenda che è ancora lungi dal risolversi, quella del rientro nelle proprie abitazioni che di fatto non c'è stato perché le abitazioni sono invivibili praticamente da parte dei legittimi assegnatari. Nel taglio centrale la foto di una famiglia distrutta, quella dei due anziani coniugi aquilani morti in un incidente stradale sabato nell'impatto violentissimo contro un'auto guidata da un giovane ubriaco, parla il figlio della coppia di anziani che ha perso la vita nell'incidente, Sandro De Vecchis, dice La mia famiglia è distrutta da due ubriachi, voglio giustizia, perché oltre all'incidente di sabato scorso, qualche anno fa c'era stato un altro episodio simile con una nipote dei due anziani coniugi, anche lei rimasta uccisa in un incidente stradale, anche in quel caso causato da un automobilista ubriaco, quindi davvero sete di giustizia da parte della famiglia De Vecchis. Restiamo a Teramo con un altro titolo di cronaca, da fuoco all'auto del titolare di un bar, un 38enne fermato, amminacciato anche di accoltellare le dipendenti del locale. Di spalla la tragedia in autostrada, lo schianto in A25 nel Pescarese, imprenditore di Alanno muore a 34 anni, la vittima nella foto è Stefano Di Francesco. Giulianova invece, altro episodio di cronaca, ordina uno scippo a due ragazzini, donna arrestata, il fatto era avvenuto lo scorso mese di agosto, nel quartiere dell'Annunziata. Nel taglio basso invece una notizia che riguarda la storia abruzzese, Brigata Maiella, 80 anni di storia, l'Abruzzo celebre Patrioti della Libertà e della Resistenza, la Brigata Maiella fu fondata proprio il 5 dicembre del 1943. In Val Vibrata apre invece il negozio solidale, spesa gratis per i poveri, un progetto dell'Unione Comuni Val Vibrata per andare incontro alle esigenze delle persone in difficoltà economica. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, si inizia a parlare di mercato, il Teramo cerca un ala e un mediano per rinforzare la rosa della formazione capolista appunto nel campionato di eccellenza. Andiamo sulla prima pagina del centro, edizione Pescara. Schianto in auto, muore a 34 anni, tragedia sulla 25, a Villanova la vittima è Stefano Di Francesco, imprenditore di Alanno, vedete qui a centro pagina La foto della vittima è l'auto semidistrutta dopo la carambola fatale che è costata la vita al giovane imprenditore. Nel taglio centrale Enrico Piano via al processo d'appello, la tragedia che causò 29 vittime nel 2017. Da domani partono le udienze all'Aquila, sentenza prevista a febbraio. Ricorderete quasi tutti assolti gli imputati nel primo grado, a parte tre condanne, tra gli altri il sindaco di Farindola. Quindi l'accusa punta a ribaltare in maniera sostanziosa e sostanziale le sentenze di primo grado. Di spalla, torniamo sulla notizia degli eventi di fine anno a Pescara. I concerti arrivano i pu per Capodanno e a luglio ci sarà zucchero in tour, quindi tante novità annunciate dall'amministrazione comunale non soltanto quindi per questo periodo di feste ma anche già per la prossima estate. Allora andiamo a seguire il servizio realizzato da Ferruccio. Benvenuti proprio con le novità per le festività natalizie di Pescara. Un doppio grande evento per festeggiare a Pescara la fine del 2023 in piazza della Rinascita, il salotto della città. È nell'area di risulta il primo gennaio dove è attesa una straordinaria presenza di pubblico per salutare l'avvenuto ingresso nel nuovo anno. Ad annunciarlo con l'assessore ai grandi eventi cremonese collegato in videoconferenza, il sindaco Carlo Masci. Il 31 dicembre avremo Umberto Smaila che intratterrà le persone che saranno a Piazza Salotto per il brindisi dell'ultimo dell'anno. Mentre il primo gennaio avremo i Poo che sono una band che ha fatto la storia della musica italiana e non solo italiana. È un concerto evento. Io penso che veramente ci saranno migliaia e migliaia di persone il primo gennaio, anche il 31 a sera, a festeggiare con noi. Organizzeremo un sistema di mobilità che tenga conto del flusso notevolissimo che avremo quel giorno. Per l'esibizione di Smaila e soprattutto il concerto dei Poo da mesi si lavora in silenzio a Palazzo di Città. Sono il culmine di un calendario di eventi nazionali e internazionali che prenderà il via venerdì 8 dicembre con la tradizionale accensione dell'albero in Piazza Salotto. È una città viva dove tutti gli operatori possano trarre beneficio da queste iniziative che organizziamo. Restiamo nel territorio dell'area metropolitana pescarese della variante, la tangenziale, chiusa nel tratto della Galleria San Silvestro a Francavilla, ricorderete, a causa del maltempo, siamo sempre sulla prima pagina del centro, crollo in galleria, i lavori sul muro possono partire, l'obiettivo è riaprire il tunnel il prima possibile. Questo per quanto riguarda la prima pagina del centro di Pescara, andiamo ad occuparci delle notizie di Chieti, sempre con il centro, assalto in gioielleria con la pistola, la cronaca quindi in primo piano, da vasto paura tra la gente al centro commerciale Pianeta, caccia a quattro banditi. Sempre la notizia dell'incidente mortale in A25 che è costato la vita al giovane imprenditore 34enne Stefano Di Francesco, poi nelle vicende amministrative teatine è in comune scontro tra PD e Polo Civico, le elezioni provinciali scatenano la polemica nella maggioranza del sindaco Ferrara. Di spalla la notizia dell'ultimo libro dell'arcivescovo di Chietivasto, Bruno Forte, che vi è rappresentato oggi all'Università d'Annunzio dal suo autore, mentre ancora per la cronaca sfonda la porta, siamo sempre a Chieti, fa irruzione in casa in rapina la ex, arrestato un 38enne. Possiamo proseguire e andare ad occuparci per chiudere con il centro delle notizie dall'Aquila, con la prima pagina del centro dell'Aquila, riproviamo la drammatica storia della famiglia De Vecchis, parla il figlio Sandro De Vecchis, il figlio di Albino e di Filomena Croce, morti in un incidente stradale sabato scorso, la mia famiglia distrutta da due ubriachi, accusa Sandro De Vecchis, parla il figlio dei due coniugi, voglio pene esemplari e nell'intervista ricorda anche la vicenda della nipote dei due anziani, anche lei morta in un incidente stradale causato da un ubriaco alla guida. A Civitella Roveto, furto da 70 mila euro all'ufficio postale, banda di ladri smura e taglia la cassaforte, colpo scoperto dopo ore. Altri titoli li abbiamo già visti, segnaliamo nuovamente la notizia dell'inizio del processo d'appello per la tragedia di Rigopiano domani all'Aquila, la sentenza prevista a febbraio, con grandi aspettative da parte dei familiari delle 29 vittime della valanga che travolse il Resor di Farindola. Queste le quattro prime pagine che abbiamo visto insieme, le quattro prime pagine del centro. Torniamo sul messaggero, intanto andiamo a sfogliare insieme le pagine interne. Per l'Abruzzo, per quanto riguarda le notizie regionali, focus sulla classifica della qualità della vita. Pescara supera l'Aquila e Teramo, il capoluogo adriatico in crescita, si piazza al 41esimo posto nazionale, Chieti chiude in coda la graduatoria delle quattro province abruzzesi, ma ha recuperato 14 posizioni. Vediamo proprio la classifica qui nell'infografica. Pescara prima in Abruzzo, la provincia di Pescara, 41esima in Italia con tre posizioni in più. L'Aquila segue con 9 posizioni guadagnate rispetto all'anno scorso, 54esimo posto nazionale, Teramo che guadagna 10 posizioni e sale al 58esimo posto in Italia e poi Chieti, anche la provincia di Chieti in risalita, più 14 posizioni e 61esimo posto nella graduatoria italiana. Il sindaco Masci di Pescara commenta, andiamo sempre più avanti, parla anche il sindaco dell'Aquila Biondi, incremento che ci fa piacere. Insomma non potrebbe essere diversamente per i primi cittadini dei comuni capoluogo. Pescara, piazza salotto discoteca, l'abbiamo appena visto anche nel nostro servizio, a capodanno con Smaila, mentre il 2024 inizia con IPU nell'area di Risulta. Masci e Cremonesi svelano gli artisti per gli appuntamenti più attesi delle feste. L'8 dicembre si accende la beta natalizio, tante iniziative per i bambini e lo shopping. Per quanto riguarda il palco della band più amata d'Italia, si parla dei PU, sarà allestito sull'area di Risulta, quindi la zona della stazione ferroviaria, ed il concerto inizierà dalle 19 del 1 gennaio. I collegamenti ferroviari. Freccianrossa accelera, Pescara e Milano più vicine di 30 minuti. Le novità dell'orario invernale presentate da Luigi Corradi per il gruppo Ferrovie. Inizia domenica la Winter Experience, viaggi nei borghi con Laterno Line. Quindi collegamenti più rapidi, abbiamo detto, tra Pescara e Milano nella direttrice adriatica ferroviaria. Sempre da Pescara, Range Rover distrutta dalle fiamme a Viale Kennedy, forse si tratta di una vendetta, violenta esplosione domenica sera, viste persone in fuga, l'auto appartiene al titolare dello stabilimento. Tre palme. Mentre il titolo forte di questa pagina è per l'incidente stradale sulla A25, nel quale ha perso la vita il giovane imprenditore Stefano Di Francesco, che è stato espulso dall'abitacolo della BMW cappottata. Nessun segno di frenata sull'asfalto forse ha avuto un malore. Gli inquirenti ovviamente stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente che è costato la vita a questo ragazzo di 34 anni. Andiamo sulle pagine dell'Aquila. A proposito di incidenti, troppi morti sulle strade, scende in campo il prefetto, dopo il decesso dei due coniugi De Vecchis, appunto ne parlavamo prima, ha convocato l'apposito osservatorio. La coppia di 81 anni era diretta all'Aquila, arrestato. L'altro conducente era ubriaco. Altre notizie di cronaca. Da Prata ad Ansidonia tenta di sgozzare clienti in un bar arrestata. Una donna di 44 anni, l'uomo salvato da un altro avventore. I motivi dell'aggressione sono ancora tutti da chiarire. All'Aquila si inizia a pensare al futuro, cioè al futuro prossimo, all'anno prossimo, il 2024, alle aspettative degli aquilani. Città più viva e attrattiva, l'attenzione per i giovani. Gli aquilani sognano nel post-sismo una l'Aquila maggiormente sostenibile, il futuro passa tra lo sport, l'impresa economica e la cultura, dicono alcuni giovani intervistati appunto dal messaggero. Continua a sfogliare il quotidiano. Siamo in Valle Roveto, per l'esattezza Civitella Roveto, svaliggiato l'ufficio postale, il bottino è di 80 mila euro. Sono entrati dalla porta di norma usata dagli impiegati quando prendono servizio la mattina e poi hanno agito. Stesso metodo e stessa professionalità usata poco più tardi anche per scassinare una cassaforte a canistro. Proseguiamo e ci spostiamo sulle pagine di Chieti. Elezioni regionali, ecco i consiglieri pronti a scendere in campo, ufficiali le candidature di Febo e Zappalorto, quattro uomini e altrettante donne nella lista DEM di Biase e Colantonio. Certi nel centro-destra, ancora in bilico il collocamento di pantalone. Un focus quindi sui politici locali, teatini, candidati alle prossime elezioni regionali. Andiamo sulla costa dei Trabocchi, nuove regole per le spiagge. Col piano appena adottato si avrà la drastica diminuzione delle concessioni, previsti anche limiti per le superfici coperte. Niente strutture fisse, soltanto ombreggi nella zona colpita dall'erosione. Sarà realizzato pure un parco pubblico. Stiamo parlando della costa tra Fossa Cesia e San Vito Chietino, appunto il cuore della costa dei Trabocchi. Ma ci sono anche delle criticità sulla Via Verde, tanto pubblicizzata ma anche tanto amata dai turisti. La pista ciclopedonale è già a pezzi, come dimostra anche questa foto a corredo dell'articolo. Ieri c'è stato un sopralluogo dei tecnici comunali, chiuso il tratto nord. Dei problemi, quindi per l'asfalto e la percorribilità della ciclopedonale dei Trabocchi. Teramo, la cronaca prima o poi via Coltello. Cliente minaccia le bariste. La notte del 29 novembre ha incendiato la macchina del titolare del locale, Cona. Ha provato anche ad andare a casa della ex, ma il 38enne è stato individuato responsabile di queste aggressioni e di queste minacce ed è ora ai domiciliari con braccialetto. Si continua a parlare del piano urbano di mobilità sostenibile. Al centro delle discussioni in città si annuncia un corteo di protesta da parte dei commercianti del centro storico con fischietti e striscioni. Si stanno mobilitando appunto gli esercenti che sono fortemente contrari alle ipotesi del PUMS. Per la politica Caterina Provvisiero lascia futuro in e passa a Forza Italia con una candidatura per le regionali. La formazione di Paolo Gatti, appunto la lista civica, invita la preside a dimettersi e a restituire il seggio che occupa in consiglio comunale. La cronaca da Sant'Omero va a trovare il marito in ospedale travolta da un'auto. È gravissima. Un dramma sulla strada appunto che costeggia il Val Vibrata. Stava proprio attraversando la strada nei pressi dell'ospedale per andare a visitare il marito ricoverato ma è stata travolta da un'auto. Tenta di strangolare la moglie, non parla. Il trentenne è arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo legale ha chiesto al GIP una perizia sulla capacità di intendere e volere. Forse compromessa da alcol e droghe. L'uomo resta in carcere in attesa che il giudice decida per la consulenza avanzata dal difensore. E ancora la cronaca, manda il figlio e un amico a rapinare una settantunenne per strada. Arrestata una romma a Giulianova, la vittima su Facebook aveva rivolto un appello per ritrovare almeno i documenti che le erano stati rubati. Taglio basso, chiudiamo segnalando l'intervista all'assessore di Giulianova, Gian Piero Di Candido. Piscina, maggiori costi e burocrazia, ma ora ripartono i lavori conclusivi. L'impianto avrà anche tribune e spogliatoi, barato pure il quarto piano, asfalti. Andiamo a chiudere con le pagine sportive del Messaggero. Titoli che riguardano appunto le compagini abruzzesi. Partiamo dalla C, calcio a serie C. Pescara, Pontedera alla ricerca del BIS. Dare continuità al preziosissimo successo di Chiavari e l'imperativo del club adriatico. Zeman proporrà lo stesso pacchetto difensivo visto all'opera solo tre giorni fa. Si recupera quindi in terra toscana, Pontedera-Pescara, oggi pomeriggio alle 18.30. Nel taglio basso ci occupiamo di basket momentaneamente. Serie B chieti, giocatori con il mal di pancia, non versati stipendi degli ultimi due mesi. La società ha indetto il silenzio stampa per aiutare gli atleti. Questa è la motivazione a trovare la giusta concentrazione. Torniamo al calcio di serie C. Pineto ai playoff, ci credo. Il presidente Brocco, la squadra, una bellissima sorpresa. I ragazzi danno il massimo a ogni partita, non mollano mai. Il direttore sportivo, vale a dire Marcello Di Giuseppe, ha sempre detto, così riferisce Brocco, di aver creato questa formazione per andare agli spareggi e Brocco quindi gli fa un plauso. Per la serie D, i problemi a chieti. Patron Serra conferma il tecnico chianese. Il nostro allenatore deve lavorare sereno, ma se non arrivano i risultati del gioco è carente. Faremo delle riflessioni, quindi in bilico l'allenatore nero-verde. All'Aquila atteso per oggi il centrocampista Braghini, quindi si muove sul mercato. La formazione rosso-blu dovrebbe arrivare anche l'attaccante Gianmarco Piccioni, in passato visto anche a Teramo. A proposito di Teramo in eccellenza, i biancorrotti hanno messo gli occhi sul difensore Tiago Menna, in forza alla vastese, il giocatore di 19enne in 15 giorni ha affrontato tre volte il Diavolo, Pedina importante. Mentre c'è mercato anche per il Giulianova, Di Gioacchino e Donatangelo, il Giulianova cerca rinforzi, 15 giorni senza gare infrasettimanali, preparazione al meglio quindi per i prossimi impegni di campionato. E' tutto per il nostro appuntamento quotidiano con la rassegna stampa, vi ricordo che alle 8 ci sarà Formattino da Pescara con Ferruccio Benvenuti, alle 9 invece da Teramo a colazione con Dorotea Mazzetta. Vi ringrazio per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Grazie per la visione!